I have 5, 6, 7 so, so she have hurt that heart don't put it down, but just straight, follow, follow no, come a sta mou a me sta mou se qualcuno la parla francesi Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Se non mi interessa. Se non mi interessa. Si. Vedete? Non prendi i tuoi turn. Fai il tuo turno. E poi ti interessa. E poi ti interessa. Se non si. E. 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 E.